In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'hotel Metropol. Pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e tv di Nima Show Live e in vado a liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Portofranco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Et voilà, abbiamo iniziato con un grande ritmo l'amico Paolo Bertoli con Balada del Fuego, tra l'altro l'amico Paolo Bertoli che ho visto molto volentieri domenica mattina, io mi trovavo in quei di Piacenza a Morfasso, sulle colline di Piacenza per una gara di bicicletta di mio figlio e me lo trovo lì Paolo Bertoli con Alberto Calle che suonavano per le vie del paese con la fisarmonica come si suonava una volta in mezzo alla gente ed è stato molto emozionante. Intanto ci siamo rivisti perché è dato un po' di tempo che non ci si vedeva. Buongiorno a tutti, buon Vada Liscio, un'oretta in mia compagnia, saluto Fulvio che ci ha preceduto 393 8489561, oggi sono tutto vostro per le dediche e richieste, partiamo già subito con la prima, con una canzone scherzosa direi, simpatica e arriva il messaggio di Paolo di Parma. Ciao Nicola, un grande saluto a te e alla Cocò, mi fareste ascoltare Emilio Romagno di Mingardi dedicato ad Arturo e Oriana di Fusignano, grazie Paolo di Parma, a salute! Grazie a te caro Paolo che sei sempre presente, salutami la mamma Paolina, sei a casa sua a mangiare adesso, arriva Emilio Romagno, tutto per voi. E voilà, l'ho tagliato prima perché c'erano delle frasi che le ha dette in un film, lasciamo perdere. Allora, 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 ha telefonato la Franca di Bologna che mi dice ce n'è un pezzettino per me? E allora gli parli e gli ho detto ma di cosa? E beh, ha detto che sei tutto per noi, almeno un pezzettino per me. Hai ragione Franca, porta pazienza ma ero al telefono, ero al telefono anche con un'altra amica, con Bianca di San Mauro Pascoli stava dicendo appunto che è un periodo un po' nero perché purtroppo non può fare il vaccino perché è allergica al medicinale del vaccino e con sto discorso del Green Pass non potrebbe neanche entrare nei vari centri, nei vari ristoranti, non può andare da nessuna parte, è un po' in crisi la nostra Bianca. Bianca, io ti sono vicino, è per quello che possiamo fare, insomma, chiamaci tutti i giorni, io ti rispondo, anche due paroline insieme, penso che siano anche un po' di conforto in questo momento. Ancora non è detto il discorso del Green Pass perché sta creando un po' di discriminazioni perché effettivamente non tanto chi non vuole fare i no-vax, che non vogliono fare il vaccino, è una scelta propria, ma chi non lo può fare perché effettivamente è allergico o può avere dei problemi, insomma si vede un po' tagliato fuori dalle varie attività che richiedono questo Green Pass. Vi sono vicino, vi sono vicino perché comunque alla fine è vero che noi stiamo cercando di tornare a lavorare perché il nostro settore, le sale da ballo, le discoteche vengono riaperte tramite questo Green Pass se passa un po' questa legge. Allo stesso tempo ci mettiamo nei panni di chi purtroppo non può più venirci a trovare perché non può fare il vaccino per problemi di salute. Ragazzi sembra il cane che si morsica la coda e purtroppo una soluzione noi non ce l'abbiamo, aspettiamo un attimo che cosa decidano dall'alto e dovremo fare di conseguenza, però una cosa la posso fare cara Bianca per essere vicino a te in questo momento e dedicarti una nostra canzone ricordando anche gli appuntamenti a partire da questa sera. Mercoledì 21 questa sera ci trovate alla Bastia, San Possidonio, Modena, Nicola e Monica ospiti di Roberto Morselli. Giovedì 22 Parco Mescita, Sant'Andrea Bagni, Parma, Nicola e Monica ospiti di Luca Canali. Sabato 24 ci trovate a Reggio Emilia, Informazione Trio, Nicola Marchese e Monica Emaio, al Circolo Bismantova Catellani, Reggio Emilia, nell'estivo, possibilità di cena con gnocco fritto e salume. Info e prenotazioni al 393 1912 091, ma vi ricordo che la cena c'è anche al Parco Mescita su prenotazione, una cenetta di 12 euro composta da antipasto di salumi, pasta fedda e spiedone di carne con patatine fritte. Andiamo in musica e Bianca tutta per te, te la dedico con tutto il cuore, incessantemente, non mollare, assolutamente, perché quella cosa che mi hai detto non voglio più sentirtela dire. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo Agatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'hotel Metropol. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e tv di Nima Show Live e vado a liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Portofranco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Ragazzi mi raccomando fate ancora in tempo, abbiamo ancora qualche disponibilità per passare questi 4 giorni in nostra compagnia. Non voglio dimenticarmi una cosa ma molto ma molto importante. Guardate un po', è arrivato il nuovo cd, lo vedete lì davanti, lo vedete qui, basta telefonarmi e ordinarlo. Io sarò molto lieto a spedirvelo. Tante belle canzoni, tanta, come dire, tanto romanticismo, cosa che mia moglie dice, ma ti appartiene sto romanticismo? E vabbè, lei così, c'è poco da fare. Peccato mortale, batte batte il cuore, una chitarra nella notte, mai poi mai, volto dell'amore, innamorato di te, bambina, mille ti amo, settimo cielo, splendida, passeggiando e poi alla fine la mia passione per la lingua espagnola, terra del sol, una bellissima, scusate, una bellissima cumbia, un moderato gipsi, che poi uno dice, peccato mortale, un bel terzinato, ma il peccato mortale è aver fatto un cd tutto ballabile in un periodo che il ballo non si può fare. Vabbè, ma prima o poi si riprenderà, no ragazzi? Ebbè, bisogna. Ciao, mi fai sentire Codazzi, grazie Giulia, allora Giulia ho messo in scaletta occhi e l'amica Silvana Di Budio mi dice, ciao Nicola, intanto complimenti per la tua cordialità, sei veramente una persona speciale, grazie Silvana, se oggi riesci mi fai ascoltare, io ci sarò di Omar domani, dai, abbiamo messo in scaletta occhi, che è una bella canzone profonda e ve la voglio dedicare con tutto il cuore, eccola qua che arriva, occhi, eh sì, è proprio poesia, è una bella canzone, è dedicata tutta a Silvana e l'amica Giulia. Andiamo a salutare qualche amico, prima mi ha mandato un messaggio Fiorenza che diceva, prima o poi ci conosceremo, cercherò di portarti qui a Bondeno per qualche festa, magari, però la nostra conoscenza deve andare al di là del portarci in qualche festa, sicuramente è ben gradito, però se ci viene a trovare in un altro posto dove siamo presenti, ti conosco volentieri lo stesso. Luca Vitali, ci sono per Vado Aliscio, grazie caro fratellone, ci sei sempre per me. Paolo Balestieri, ci sono, ci vediamo domani Paolo, mi raccomando, al Parco Mescita dall'amico Luca Ganali. Andiamo ad accontentare Franca di Bologna che diceva ce n'è un pezzettino per me? Ed ecco qua, arriva un bel tango di Edmondo Comandini, penso con Roberto Scaglioni, fuego, perché quello di Maio te lo faccio domani, perché poi sarà qui presente in studio con me. Io sarò un po' stanco dalla serata, però ci sarò, non vi preoccupate, con tutto il mio entusiasmo, come cantava Piero Pelù. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393-1912-091. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'hotel Metropol. Pensione completa con bevande e i pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e tv di Nima Show Live e Vado a Per informazioni e prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena. Ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880. Il piacere di vestire italiano. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, a mille metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale, con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staffa di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it Eccoci rientrati ragazzi, vado subito a ricordarvi un appuntamento sempre della Bastia, oltre il nostro di questa sera. Ecco qua mercoledì 21 Nicola Marchese e Monica e ospiti di Roberto Morselli. Mercoledì 28 troveremo l'amico Tiziano Ghinazzi e Nicoletta sempre in compagnia di Roberto Morselli. La Bastia la trovate a San Possidonio Modena, via Togliatti, ingresso 10 euro con spuntino a metà serata. Info e pronotazioni Deborah al 348-5298-529. Mi raccomando partecipate numerosi e ci andiamo ad ascoltare proprio Tiziano Ghinazzi con la sua fisarmonica in questo arcobaleno. Eccolo qua. E voilà, questo era Tiziano Ghinazzi, lo trovate mercoledì prossimo. Stasera ci siamo noi, io e Monica e il mercoledì prossimo Tiziano e Nicoletta alla Bastia di San Possidonio. Ne approfitto per salutare l'amico Gianni Francia che mi ha telefonato, ha richiesto una canzone di Ruggero Scandiuzzi, Un angolo di eternità. Tra l'altro questo videoclip è stato girato a Tenerife, al Jacaranda, dove io sono già stato in vacanza nel 2016. E a proposito di vacanza, ne approfitto per farvi vedere ragazzi in sovraimpressione la nostra rivista di luglio perché era proprio, anzi facciamo così, tac, eccola qua, proprio di vacanza voleva parlare la copertina. La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. Questa è un po' la nostra copertina di luglio e infatti in pagina 2 e pagina 3 c'era già subito la locandina per quanto riguarda Gatteo Mare, fate ancora in tempo, c'è ancora disponibilità, mi raccomando, telefonate all'Agenzia Viaggi Portofranco. Subito dopo qualche consiglio con Nima Natur, i nostri set travel e poi piano piano i nostri articoli, la parte di finanza con la rubrica di Stefania e Luca, l'inflazione, poi la pasta fredda con specche nocciola dei nostri cuochi, Daniel e Maio Maregini, tra l'altro Daniel sarà con noi a Gatteo Mare in vacanza e poi arriva ragazzi Farfallina, l'edizione musicale di Giuseppe Spinelli con la loro produzione e l'articolo scritto dall'amico Marco Tonelli è passato di qui perché anch'io sono passato dallo studio nord di Parma a registrare il mio peccato mortale. Tutto quanto lo potete trovare sulla pagina Facebook Nima Magazine e sul mio sito nicolamarchese.it slash Nima Magazine. Andiamo avanti e queste sono un po' il bello delle donne, la nostra Monica ci ha parlato della scomparsa di Carla Fracci, qui abbiamo gli appuntamenti che purtroppo abbiamo dovuto annullare alla Corte dei Landi perché volevamo proporvi il ballo con la pista ma non è stato possibile. Paolo Montanari che ci parla di Danilo Sacco, l'ex cantante dei Nomadi, la nostra Sabrina Bertolani che ci parla di Marco Ligabue e del suo nuovo libro, la nostra Beatrice Bramini che ci parla dell'attualità e il nostro appuntamento di Ferragosto Summer Festival dove appoggia la selva di Calenzano Firenze con l'orchestra Nicola Marchese e le drag queen Elena Sederova e Cristina Colbottom. Cena di pesce sulla spiaggia, tutto quanto a soli 70 euro. Cena più pernottamento più prima colazione. Se volete passare il Ferragosto con noi fatevi sentire e contattateci. DJ Cocchi, DJ Trilli che ci hanno parlato, di Gabriele Cerlini, DJ Cerla, la pena sportiva di Valentina Cristiani ci parla della modella e sportiva Giulia Gambini, dopodiché arriviamo al Charlie Chaplin iscritto dalla nostra Cinzia Felloni per quanto riguarda la storia della musica, i nostri appuntamenti delle trasmissioni e un saluto al nostro sponsor che ci segue da un po' di tempo, Express, noleggio, gestione, manutenzione e distributori automatici. Queste sono le informazioni per quanto riguarda la nostra rivista che al momento si ferma, perché ragazzi abbiamo preso questa decisione di fermarci con la rivista seppur online, dobbiamo ricaricare le batterie, purtroppo è una conseguenza dovuta appunto alla pandemia, attenderemo che riaprono le sale da ballo per poter poi stampare la rivista e distribuirla all'interno dei circoli e locali partner. Andiamo in musica e vado ad accontentare l'amico Gianni Francia con un angolo di eternità. Un angolo di eternità, ne approfitto ragazzi per ricordarvi la nostra pagina Facebook Nima Natura, ne abbiamo parlato prima nella rivista Ecosostenibilità, uno stile di vita, cliccando il tasto ordina ora sarete rimandati al nostro sito di e-commerce nicolamarchese.ringana.com vi potete iscrivere direttamente voi oppure chiamatemi al 393 1912 091, io vi darò sicuramente una mano e c'è un'offerta particolare oggi e dico solo oggi, oggi insomma, fino a scadenza di questa giornata e fino a disaurimento scorte avrete la bevanda, adesso non guardate questa pochette perché è il set da tre, ma la bevanda rinvigorente ringana chi, quella che vi dà una botta di vita con un po' di zenzero all'interno, la trovate col 20% di sconto. Beh, buttatela via, intanto approfittatene, dai mi raccomando, andiamo ad accontentare l'amica Ines Di Bagnolo che mi ha richiesto una canzone di Davide, non riesce ad essere dei nostri sabato sera, pazienza dai, Ines non ti preoccupare, sarà per la prossima volta. Vedo da Facebook una condivisione della nostra diretta, della pagina Facebook Nima Radio TV da parte della nostra amica Maria Di Bibiano, Maria Domenico, buona giornata al gruppo Nima da Viserbella, Maria Domenico, Maria, io so che tornate domenica, però potete ripartire e il 31 venire con noi a Gatteomare, altrimenti se non venite in vacanza ci vedremo, sperando voi siate a casa perché siete un po' sempre in giro, a Gironzoloni che non siete altro, il 7 di agosto dagli amici di Pannocchia a Pannocchia per una serata in musica e ovviamente con tanta cucina, a breve mi arriva la locandina, cominceremo un po' a pubblicizzare anche il 7 di agosto, intanto arriva Davide Montali con Besame, Muccio, e voilà, contentata che la nostra adora, dice bravissimo anche il nostro Davide Montali, certo, certo, ragazzi vado ad accontentare l'amico Renato di Borgotaro che dopo tanto tempo ha trovato il canale 86 e ci guarda anche da Borgotaro, ciao caro Renni, saluta anche la mamma Norina e arriva Ponte di Ferro di Paolo Bertoli, tutta per voi, Ponte di Legno, che Ponte di Legno? Ponte di Legno è la famosissima località in montagna dove ci andai anche un'estate e mi divertì tanto, Ponte di Ferro per Renato di Borgotaro e voglio salutare l'amica Marta Bonelauri che si trova in vacanza al mare a Rimini, noi ci saremo dal 31 luglio al 3 agosto ma a Gatteo, ecco qua che arriva lo spot e ci salutiamo con la mia canzone dal titolo Spegni la luce ma la versione baciata registrata sempre in vacanza, a Cuba, bye bye, stessa ora, stesso canale, stessa spiaggia, stesso mare, a domani e stasera vi aspettiamo alla Bastia di San Possidonio, Modena da Roberto, da Roberto Morselli e Deborah, ciao! In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'hotel Metropol, pensione completa con bevande e i pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman, quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso, due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e tv di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni Agenzia Viaggi Portofranco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12.